Santi Cascone e Paolo Falco sono i nuovi assessori della giunta Stancanelli. Andranno a sostituire i dimissionari Alberto Pasqua e Franz Cannizzo. In particolar modo il professore Cascone avrà la delega alla mobilità e alla viabilità, dunque andrà a sostituire Alberto Pasqua, mentre Paolo Falco si occuperà delle attività produttive che fino a ieri erano in mano all'assessore Roberto Bonaccorsi. Riconfermato invece l'assessore Arciliacono che qualche giorno fa aveva presentato le sue dimissioni dopo la decisione di lasciare l'MPA. Io avevo detto già da tempo, non sospetto, che nel momento in cui ci sarebbe stata la necessità di registrare la giunta anche in termini di presenza concreta delle forze politiche che hanno vinto con me le elezioni e che mi continuano ad appoggiare, avrei rivisitato la giunta, l'ho fatto. Penso che i due nomi che ho indicato, il professore Santi Cascone, conosciuto a Catania, presidente della Fondazione degli Ingegneri e il dottore Falco, rappresentino una continuità all'interno di una giunta che si rappresenta appunto per la sua capacità e per la sua bravura. Sebastiano Arciliacono ho apprezzato io la sua disponibilità nel momento in cui non era più il rappresentante dell'MPA all'interno della giunta, ma non c'era necessità di sostituirlo, quindi l'ho riconfermato. Ho ringraziato Pasqua che per motivi professionali ha ritenuto di dover, dopo due anni di grandi sacrifici e di grande lavoro, di dover passare la mano e quindi ecco la giunta è ricomposta in maniera concreta nel giro di 48 ore. Ringrazia Pasqua, Canizzo lo ringrazia? Ma guardi, con Canizzo abbiamo concordato, poi ho visto quell'uscita fuori dalle righe che rappresenta soltanto, come posso dire, la vanità di un uomo che era convinto che abbia fatto l'assessore a vita. Siccome a vita non ci siamo nessuno, neanche il sindaco, il sindaco dura 5 anni e poi gli elettori lo confermono meno, gli assessori durano il tempo che svolgano una propria attività e poi il sindaco si assume la responsabilità delle scelte politiche e delle scelte amministrative. Durante prole di missioni di Canizzo alla Confcommercio sono arrivate delle accuse pesanti dicendo che non si pensa più all'abusivismo, non si pensa più al rilancio turistico della città che c'è troppa ingerenza politica anche nel mondo delle imprese. Se nel mondo delle imprese c'è ingerenza politica rispondono loro, io non faccio nessuna ingerenza politica. La lotta all'abusivismo è opera quotidiana che noi svolgiamo e la svolgiamo perché la vuole il sindaco, perché il sindaco è l'espressione di quella catania che vuole andare contro tutte le logiche dell'abusivismo e dell'illegittimità e dell'illigietà. Così mi sono comportato in questi 4 anni, i risultati ci sono, non dipendo da questo o da quella persona. La Confcommercio, devo dire, ha buoni rapporti con me, c'è stata questa uscita che obiettivamente non va onore a chi l'ha fatta, ma noi continuiamo avanti per la nostra strada.